Eccoci qua. Anche oggi abbiamo il piacere di avere con noi Agostino Bonomo, che è il presidente di Confartigianato Imprese del Veneto. Il motivo della sua presenza è perché in questa settimana hanno avuto un incontro con rappresentanti di Lega, Partito Democratico, Forza Italia e con il ministro Stefani, insomma all'ordine del giorno naturalmente alle questioni economiche del Paese. Il comunicato stampa finale esordisce con un tono, devo dire, non consueto da parte di Confartigianato. Dice, per quanto riguarda il ricorso al contenzioso tributario, la cosiddetta pace fiscale, la situazione del 2017 mostra un'Italia divisa sostanzialmente in due. E' quanto emerge da uno studio dei dati del MEF, il ministero dell'economia e delle finanze, elaborati da Confartigianato Imprese Veneto, nel quale rispetto al primo grado di contenzioso, le regioni del nord, in particolare, fanno registrare un indice di ricorso inferiore a 10 ogni mille imprese. Bene al di sotto della media nazionale, che invece è pari al 24,4%, e si raggiunge addirittura il 59,9% in Sicilia e il 75,2% in Calabria. Insomma, conoscendo Confartigianato Imprese, devo dire, non ha mai fatto una questione di nord e sud Italia, anzi. In questo caso lo state sottolineando. Quello è un provvedimento che va clamorosamente a favorire le imprese meridionali. Partiamo da lì. Intanto buongiorno a tutti. Non voglio metterla in difficoltà, ma non sono assolutamente in difficoltà. Poi sono dati. La questione nasce proprio per un disappunto rispetto ad una politica di assistenzialismo che il governo sta mettendo in campo. Ed è una politica di assistenzialismo che, andando a studiare nella storia dove viene applicato questo tipo di provvedimento, non si vede assolutamente sviluppo. Noi crediamo, come associazioni di categoria, come Confartigianato, che lo sviluppo di un territorio come il sud, che noi vorremmo avere in linea come il nord rispetto a quelli che sono i numeri macroeconomia, quelli che sono gli indicatori economici, se noi vogliamo portarli a livello del nord sicuramente non lo si farà con l'assistenzialismo. Questo è uno degli esempi, ma ce ne sono altri. Abbiamo preso questo dei condoni che è forse il più eclatante, perché passa da un 12% a un 75%. Quando è troppo è troppo. Quando è troppo è troppo e quando si deve far vedere una tendenza, si prende la situazione più eclatante, quella che più fa vedere le differenze fra due metodologie diverse, fra due approcci diversi rispetto a quello che è proprio un andamento. Bene, detto questo, noi siamo contrari all'assistenzialismo e vorremmo che, se si deve spendere 8 miliardi di euro su un reddito di cittadinanza, si facesse qualcosa di diverso, ossia si mettessero quei denari a favore di imprese che possano occupare stabilmente delle persone e creare al sud quelle condizioni affinché l'impresa possa lavorare in maniera tranquilla. Al sud ci sono imprenditori di eccellenza, ci sono imprenditori che sanno fare il loro lavoro, che hanno attorno a sé però una situazione che è assolutamente disastrosa, drammatica. Se in Italia è difficile fare impresa, al sud lo è ancora molto di più. Allora, tutti questi provvedimenti che, come le elezioni peraltro, l'esito delle elezioni ha diviso l'Italia in due, e tutti questi provvedimenti che il governo sta prendendo, che divide ulteriormente l'Italia in due, ma che a nostro avviso mette in campo delle azioni che sicuramente non avranno un esito positivo, non andranno a cogliere l'obiettivo che è quello di far emergere il buono del sud e portarlo in situazioni di favore affinché il sud abbia veramente un recupero, una crescita economica che sia stabile nel tempo. La logica è un po' quella dell'insegnare a pescare, ma metafora per metafora lei ne ha usato un'altra, che è quella del condominio. Sì, perché non si può pensare che se uno è abitante di un condominio e il proprio appartamento è messo bene, ma l'infrastruttura condominio è messa male, potrebbe venire giù al primo soffio di vento, visto che è di moda adesso il soffio di vento, negli ultimi giorni. È realtà più che moda. Purtroppo sì, drammaticamente. E che il primo soffio di vento venga giù il condominio perché verrebbe giù anche il mio appartamento, per quanto bello sia, per quanto ci abbia investito all'interno di questo appartamento. Perché noi vorremmo che veramente tutta l'Italia avesse le stesse caratteristiche, le stesse capacità, la stessa modalità anche di competere in un mercato che sicuramente in questo momento è un mercato che guarda anche quello internazionale all'Italia sempre di più con favore, perché il Made in Italy e l'Italian Style è in testa ai gradimenti del mondo, per cui il mondo ci guarda come un soggetto che può dare loro non solo prodotti, ma anche essere luogo da visitare sotto forma di turismo e luogo da conoscere sotto forma del patrimonio artistico-culturale che abbiamo. A proposito di soffi di vento e di disastri di natura naturale, voi proponete anche che il reddito di cittadinanza, il quanto destinato al reddito di cittadinanza, possa essere invece utilizzato per il contrasto al discesso idrogeologico. Sì, noi stiamo vedendo che i fenomeni atmosferici e meteorologici che prima accadevano in maniera così violenta, forse una volta ogni 10 anni, ogni 15 anni, si parla dell'alluvione del 66 come un qualcosa che rimane nella mente ben viva perché era un fatto isolato. Non sono più fatti isolati, vediamo che 3, 4, 5 volte all'anno in vari posti rispetto alla geografia dell'Italia, quando ci sono questi fenomeni che veramente hanno una violenza che non si conosceva prima perché si scaricano a terra quantità d'acqua che dovrebbero, se andiamo a vedere le statistiche, cadere a terra nel giro di una settimana, cascano nel giro di un giorno, due giorni, vento a 200 km all'ora in montagna che non è mai successo. Ecco, noi vediamo che la meteorologia sta cambiando, vediamo che abbiamo un territorio che ogni volta che questi fatti avvengono, vengono giù pezzi d'Italia, beh, quegli 8 miliardi usiamoli per sistemare da un punto di vista idrogeologico la nostra povera Italia affinché veramente questo non succeda creando quei disastri e quel cumulo di macerie che non sono solo cumuli di macerie materiali ma che sono anche cumuli di macerie nell'intimo delle persone che vedono proprio sparire magari i risparmi e il lavoro di una vita ma che veramente poi si sentono impotenti rispetto a questa furia della natura. Voi scrivete, al netto della sacrosanta lotta alla povertà così dovrebbe comportarsi un paese responsabile. Responsabile, cioè non le mandate a dire? Un paese responsabile intendiamo un paese che faccia veramente un'analisi di quelle che sono le situazioni di gap da colmare e che si metta in campo delle azioni che non sono delle azioni spot come può essere il reddito di cittadinanza che debolisce ancora di più dal punto di vista economico l'Italia perché si parla di manovra espansiva ma la manovra espansiva solo del debito perché sicuramente quegli 8 miliardi nel reddito di cittadinanza non saranno espansivi per l'economia? Assolutamente no ma espanderanno solo il debito. In compenso vi tagliano i finanziamenti per l'alternanza scuola-lavoro vi tagliano, tagliano i finanziamenti per l'alternanza scuola-lavoro che invece è una prassi che voi avete sostenuto e sposato. Ecco questa è un'ulteriore preoccupazione e un ulteriore disappunto rispetto a ciò che abbiamo letto della legge di stabilità non credo che servissero quei 50 milioni di euro per esempio che sono stati tagliati come incentivi che erano messi dentro alla legge sull'alternanza scuola-lavoro poi l'alternanza scuola-lavoro hanno deciso anche di cambiare nome sembra quasi che il nome lavoro vi ha fastidio Adesso si chiamerà percorsi per le competenze trasversali Percorsi per le competenze trasversali, proprio non si vuole parlare di lavoro Alternanza scuola-lavoro lo capiamo tutti Percorsi per le competenze trasversali Questo è stato un provvedimento che nel Veneto ha avuto un successo enorme Ho avuto anch'io in azienda due ragazzi che sono venuti in alternanza scuola-lavoro è stata un'esperienza felicissima sia da parte mia come imprenditore sia da parte del ragazzo che ritornerà poi adesso a febbraio lui è stato promosso in una classe successiva ma ritornerà da me a febbraio a ripetere il percorso di alternanza scuola-lavoro e devo dire che nel Veneto abbiamo avuto una messa a disposizione di aziende con un numero che ci vede leader in Italia siamo il territorio che ha risposto in maniera positiva come nessun altro territorio solo la provincia di Vicenza per esempio in Camera di Commercio abbiamo 3.300 aziende che fin da subito si sono messe a disposizione hanno fatto un percorso di formazione perché non è così semplice accogliere dei ragazzi in alternanza scuola-lavoro e lo hanno fatto con successo sono felici di averlo fatto e vogliono ripetere l'esperienza bene, togliere questi soldi ci è sembrato un'iniziativa abbastanza poco comprensibile cambiare il nome della legge altrettanto incomprensibile ma soprattutto poi andare anche a modificare quello che è l'iter poi dell'attività alternanza scuola-lavoro togliendo i crediti per cui il ragazzo viene ma non accumula crediti e togliendo l'imprenditore all'interno della commissione non giudicatrice, della commissione esaminatrice in fase poi di esame e di fine dell'anno scolastico ecco praticamente si è andato a sminuire quello che di buono c'era all'interno del contesto dell'alternanza scuola-lavoro e questo sicuramente non ci ha visto felici e per concludere in gloria parliamo dell'autonomia ecco parlare dell'autonomia è un ulteriore argomento preoccupante soprattutto perché pare abbastanza evidente che questo territorio per come si era espresso in occasione del referendum abbiamo visto che questa autonomia la si voleva in maniera molto importante e forte abbiamo capito che il preaccordo che era stato firmato con il sottosegretario Bressa e con il presidente Zaia il governatore Zaia è un preaccordo che non vincola fortemente il governo e non lo pone nelle condizioni di correre in maniera veloce verso la fine di questo iter la preoccupazione è che ci vorrà del tempo e ci vorrà molto di più di quel tempo che si pensava e che si preventivava a inizio di questo percorso diciamo che qualche dubbio ce l'ha sulla conclusione sulla conclusione assolutamente sì anche perché appunto noi abbiamo lavorato in maniera importante abbiamo sostenuto questa iniziativa l'abbiamo fatto in maniera come è consueta per noi una maniera scientifica abbiamo steso un documento lo abbiamo analizzato abbiamo visto quali sono le azioni che per noi migliorerebbero quella che è l'attività delle aziende che migliorerebbero i percorsi che le aziende poi hanno con la pubblica amministrazione all'interno della Regione era un provvedimento sul quale avevamo notevoli speranze e ci credevamo e vediamo sempre di più spostarsi la data per cui un minimo di preoccupazione un po' di disillusione nel cuore ce l'abbiamo e questo è giusto dirlo al di là del grande lavoro che voi stessi riconoscete al ministro Erika Stefani il ministro competente che fra l'altro è un veneto ma insomma evidentemente le difficoltà romane sono tante grazie ad Agostino Bonomo insomma non avevo dubbio che c'era buon motivo per averlo ospite lo ringrazio anche per la solezia con cui ha risposto all'invito queste insomma sono le proposte che vengono definite proposte di cambiamento di pace fiscale in cività fiscale e come abbiamo detto dedicare il reddito di cittadinanza al contrasto al dissesto idrogeologico è un documento che declina in chiave venete le richieste sulla legge di bilancio grazie al presidente di Confartigianato Imprese Veneto a voi alla prossima a voi alla prossima